Ai piedi di Montmartre, tra coloratissime luci al neon, si stende il quartiere dei divertimenti notturni. Cabaret, spogliarelli, sex shop, cinema a luci rosse, La Spigale, Boulevard de Clichy, Moulin Rouge e un po' più lontano le Poly Berger, evocano l'aspetto trasgressivo della città, con lontani equip del French Cancan. Questa è la zona di Picallo, dove la notte ci sono tutte le signorine in vetrina. Adesso è tutto spezzo perché è partita, è molto presto, Rossara non vuole venire. Qui, fino a vent'anni fa, c'erano le Hall, il mercato alimentare della città, il leggendario ventre di Parigi, descritto dai romanzi di Zolan. Oggi le Hall sono state trasferite in periferia e al loro posto, nel grande buco lasciato dal vecchio mercato, è nato il Foron de Hall, un gigantesco centro commerciale. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!